Napoli 0 Inter 1 l'Inter vince la supercoppa italiana primo trofeo di questa stagione nella bacheca nera azzurra la firma di Lautaro Martinez su questa coppa siamo nel post partita e come sempre andiamo ad analizzare insieme i voti le prestazioni dei singoli in una gara sicuramente resa complicata da un Napoli molto attento in fase difensiva che ha sporcato molto la partita dal punto di vista del gioco alla fine la spunta l'Inter con un guizzo di Lautaro Martinez nel finale in pieno recupero siamo nel post partita e come sempre arriva il nostro tier maker con cinque fasce in cui andare ad inserire le valutazioni dei giocatori dell'Inter scesi in campo stasera e troveremo in queste cinque fasce l'MVP per il migliore in campo sono curioso di capire stasera se valutate il gol oppure se valutate tutta la prestazione sono molto molto curiosi vedere i vostri voti eh top per quelli che sono andati particolarmente bene ok per quelli sulla sufficienza rimandato per chi non è andato particolarmente bene e flop per chi ha fatto male stasera se c'è ve lo chiedo lo deciderete voi lo decideremo insieme eh partiamo da Jan Sommer Sommer che non è stato particolarmente impegnato ha fatto un solo buon intervento se non ricordo male su Varaskelia con un tiro a giro sul secondo pallo dove ha volato bene ha partecipato molto anche alla costruzione dal basso eh stasera ha dovuto alternare anche la fase di costruzione bassa con anche dei lanci lunghi che eh spesso sono stati comunque raggiunti dai nostri ma ehm oggi c'era un po' di difficoltà ad uscire quindi la costruzione con l'aiuto di di Sommer è stata sicuramente importante la chat lo premia eh anche per la bella parata su Varaskelia vedo che lo state mettendo tutti nei top quindi mettiamo il primo top di serata Jan Sommer ennesima partita senza subire gol eh da parte del nostro portiere grazie anche ad una fase difensiva che ha avuto sicuramente un altro top ragazzi Benjamin Pavard eh partita di alto livello del francese merita assolutamente di finire nei top prestazione importante dal punto di vista difensivo che ti permette anche di cambiare modulo a gara in corso eh si sgancia molto in avanti poi serve lui l'assist decisivo per la rete di Lautaro Martinez eh per me si vede ecco che questo è un giocatore di altra pasta rispetto a tanti altri in circolazione che si potevano acquistare ecco di cui si parla tanto Pavard altra prestazione importante continua la crescita di questo giocatore ehm dopo l'infortunio che sarà sicuramente molto importante anche per le prossime partite al centro della difesa c'era uno Stefan De Vrij che è stato sostituito per un'ammunizione ammunizione cause eh causata anche da una falla da un pallone perso da Cialanogo in mezzo dovuto metterci una top eravamo un pochino sbilanciati però anche stasera De Vrij fa un'altra prestazione secondo me sontuosa veramente importante un'altra partita in crescita per il difensore olandese e per me si merita il top anche lui Pavard è chiaramente un livello sopra eh però la partita di io di De Vrij mi ricordo anche un'azione dove stavo sottolineando come il Napoli non ci ha mai permesso di essere in superiorità numerica nella loro nella loro area di rigore mentre loro erano sempre in parità numerica con noi tre contro tre e fa una chiusura di test in anticipo nel primo tempo che è veramente importante perché eravamo messi male un'altra l'ha fatta anche Pavard che era in mezzo due attaccanti era da solo e l'ha gestita bene quindi De Vrij altra partita top anche proiettandosi in avanti col pallone mi è piaciuto eh a Cerbi a Cerbi per me è calato un pochino alla distanza è sceso un pochino ha giocato comunque con la consueta eh personalità è stato lui eh con il con la sua proiezione offensiva a far scattare anche l'espulsione di Simeone quindi eh comunque è stato importante nell'impatto sulla partita eh sono d'accordo con voi lo metterei comunque un gradino sotto rispetto agli altri e quindi lo metterei nei ok a Cerbi comunque sempre affidabile per Inzaghi anche stasera nelle vesti del sostituto di bastoni che non c'era per un problema fisico andiamo a centrocampo Darmian che a destra oggi eh ha lasciato a Pavard i compiti di spingersi in avanti ehm secondo me Darmian è stanco anche oggi un po' si è visto comunque ha fatto la sua partita importante aiutando Svaraschelia in fase difensiva ehm gli do una sufficienza non così prestazione buona importante comunque abbiamo ha disinnescato anche insieme a Pavard uno dei giocatori più importanti della serie A che è Kvaraschelia quindi questo merito glielo darei e poi davanti un po' di imprecisione che è tipica del momento di stanchezza e del fatto che in fase offensiva lo diciamo da tempo sta perdendo qualcosina e quindi Pavard eh Darmian lo mettiamo lì Barella ragazzi mi dispiace ma Barella credo oggi non abbia azzeccato nulla o quasi ehm gli premiamo sempre la la voglia di fare la il fatto che comunque è sempre un elettrico positivo nel centrocampo dell'Inter però si prende un giallo eh per proteste per che poteva risparmiarsi e gli farà saltare la partita contro la Fiorentina poi in diverse occasioni ho faticato a capire alcune scelte c'è da dire che è una delle cose che che apprezzo nel senso che lui si rischia la giocata rischiando la giocata è chiaro che il tasso eh le probabilità di errore si alzano quindi quello passa più ehm passa più in vista vedo tanti flop flop per me è eccessivo però rimandato stasera sì rimandato stasera anche per il giallo eh frattesi per esempio secondo me è entrato è entrato bene quindi ehm la differenza un pochino si è vista eh c'era no glue in mezzo al campo eh c'era no glue deve migliorare un po' la foga con cui va ad intervenire ehm gli è stato risparmiato un giallo poi se l'è andato a prendere un po' a forza eh qualche errorino di troppo e non è riuscito a dare quella pulizia nella manovra che è solita vedergli ehm allora al livello di presenza in mezzo al campo non si discute sicuramente però non mi ha convinto pienamente la prestazione di Ciala a me non ha convinto totalmente la sua prestazione vi vedo ma top no top non sono d'accordo vi vedo sull'ok mediamente c'è qualche rimandato vi vedo sull'ok ehm va bene lo lo mettiamo sull'ok non non sono totalmente convinto sinceramente ehm Mkhitaryan Mkhitaryan dei tre centrocampisti per me è stato il migliore eh ha avuto una buona occasione dal limite dell'area di rigore nel primo tempo che non ha sfruttato bene secondo tempo è stato un pochino più confuso anche quando è è salita la partita però ehm la sua classica partita fa fa una cosa a me Mkhitaryan che piace tantissimo eh nell'uscita dal basso delle giocate di prima senza guardare eh che sono veramente importanti poi sinceramente io a Mkhitaryan do il ha sbagliato due palloni me li ricordo bene uno soprattutto che si è lanciato in avanti e poi l'ha dato indietro Barrella non c'è arrivato e si è creato un pericolo però io per questo Mkhitaryan non lo penalizzo ma anzi lo premio perché è lui l'incaricato di prendersi quei rischi sinceramente è il giocatore con l'intelligenza e il tasso tecnico negli ultimi metri superiore a tutti gli altri e quindi per me è normale che debba commettere lui qualche errore perché ehm è anche nella zona di campo più difficile da gestire a livello di tempi e precisione per cui anzi mi state spingendo tutti tutti sul top per Mkhitaryan quindi sì per me l'ok pieno ci stava però mi state spingendo tutti al top e per per differenziarlo lo vi accontento Di Marco Di Marco eh lo dico io ragazzi Di Marco per me oggi purtroppo rimandato Di Marco oggi purtroppo rimandato eh non secondo me secondo me lui rischia un pochino o comunque ha qualche difficoltà nel eh gestire due partite così ravvicinato ravvicinate e oggi ha sbagliato tanto eh dal punto di vista tecnico che dovrebbe essere il suo fondamentale soprattutto eh ha sbagliato un po' troppo è andato vicino ad un gol è stato deviato di pochissimo dopo nel primo tempo è finito fuori di pochissimo e poi piano piano e poi piano piano si è andato spegnendo ed è praticamente sparito poi di sicuro ha inciso anche la mancanza di bastoni che lo ha sicuramente limitato e gli ha complicato un po' le cose eh gli possiamo dare un più perché ehm perché comunque diciamo ha aiutato anche in fase difensiva ma no per me no beh però per me Gorgio ci sono errori ed errori eh un conto sono gli errori che commette per esempio ci hanno commessi due perdendo due palloni sanguinosi sul cerchio di centro campo un conto è quello che commette Mkhitaryan a due metri dall'area di rigore avversaria eh sono diverse come come errori anche come interpretazione della giocata per me andiamo avanti eh Turam Turam stasera ragazzi non benissimo purtroppo eh grazie Thomas intanto ditemi il voto di Turam mentre ringrazio il nostro Thomas e ancora tanti auguri il regalo di compleanno allora te lo fa l'Inter grazie a te grazie mille Thomas eh un altro trofeo nel giorno del compleanno niente male niente male niente male Alex Dolcet grazie anche a te grazie di cuore al nostro Alex complimenti sinceri vado a fare la grana buon lavoro Alex grazie davvero per il grande supporto con la super chat e Turam ragazzi dai oggi oggettivamente che c'è da dire non non è sufficiente la prova di di Turam va bene l'aver vinto la partita però non 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 possiamo fingere ecco di di non aver visto questa partita e oggi ha avuto due occasioni in cui è stato un po' lento a livello di reattività e non le ha sfruttate e poi per meriti del Napoli chiaramente non non tanto per dei meriti suoi ma per tanti meriti del Napoli ha ricevuto pochi palloni giocabili e ha inciso poco io l'impatto di Turam su questa partita non l'ho visto non lo vedo quindi oggi poi quando poi mi sembra lui è un giocatore di spessore tecnico bravo nel dribbling che può fare qualcosa di importante anche nel dribbling eh però quando affrontiamo queste squadre con due linee molto compatte sta avendo qualche difficoltà invece lui dovrebbe essere uno di quelli che ci aiutano a scardinare questo tipo di difese eh lo metto rimandato ehm non non è che lo andiamo a massacrare come fanno in tanti però ci sta una partita magari meno brillante eh delle altre qui stiamo giudicando la singola prestazione oggi eh poi dopo siamo tutti contenti per la vittoria me l'abbiamo già detto prima eh Lautaro Martinez c'è poco da dire credo eh con il gol si va a prendere l'MVP e come al solito il suo lavoro di raccordo di aiuto tra le linee non non manca mai in più ci aggiunge anche il guizzo alla prima vera unica probabilmente palla gol giusta eh la mette dentro e e se ah no si è si era divorato anche un'altra occasione ne aveva avuta un'altra di occasione però la seconda non ha perdonato e ha deciso la partita quindi Lautaro MVP eh diciamo è abbastanza abbastanza scontato con con Pavara io lo metterei insieme a Pavara stasera lo metterei lì vicino e andiamo anche su chi è entrato dalla panchina così commentiamo anche i subentrati vabbè Bissac senza voto è entrato novantatreesimo ha avuto è stato bravo a far perdere qualche secondo eh in pieno recupero ma non molto altro eh poi il migliore dei subentrati ragazzi è Alexis Sanchez il migliore il migliore dei subentrati è inevitabilmente Alexis eh che poi io devo dire anche oggi ci mette lo zampino eh nel gol come sappiamo eh con il passaggio che apre a destra per Pavara e poi la mette dentro ma e non è la prima volta che succede ma devo dire che lo vedo finalmente entrare anche non più così così come un'ape che 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 viaggia che aleggia così un po' a caso io lo vedo che comincia ad avere un po' più senso ecco il suo inserimento lì davanti quindi stasera gli diamo il top per come per come è entrato eh gli gli concedo degli errori comunque è chiamato ad inventare è chiamato a fare delle cose un pochino più complesse quindi eh lo metto poi ho fatto ho fatto la giocata precisa giusta per per sbloccare la partita e non è banale secondo me quella giocata perché poteva andare anche centrale invece va largo da Pavara e la mette in mezzo e e anche Arnautovic non mi è dispiaciuto ehm non che sia entrato e e abbia chissà che cosa messo in mostra però anche Arnautovic ce lo metto negli ok per come per come è entrato altri piccoli segnali eh di incoraggiamento per l'attaccante austriaco eh Carlos Augusto io Carlos Augusto ragazzi non lo so gli riconosco tante doti è un giocatore che per me utile per quest'Inter eh deve sia lui che frattesi devono convincermi del tutto in questa partita qua eh non lo so Carlos Augusto male Carlos Augusto ok Augusto 5 sì ha crossato dai ha fatto dai eh sì gli possiamo dare un ok un più di Di Marco comunque comunque sì e frattesi oh ragazzi vi devo dire anche frattesi dai alla fine leggo sempre tanti commenti cioè con frattesi giochiamo in dieci in costruzione non partecipa al palleggio invece per me è entrato ha partecipato anche al palleggio in alcuni momenti ha giocato anche con qualità nello stretto quindi anche frattesi si merita si merita all'ok chiudiamo con Simone Inzaghi l'ultimo voto che ci manca è quello del mister mister che oggi per me si merita il top si merita il top perché era una partita sporca complicata contro un Napoli che ha saputo sporcarla come dicevamo prima e ancora una volta cambia gara in corso chiaramente favorito dagli episodi eh dal dall'espulsione di Simeone però passa la difesa a quattro fa slittare Pavard più avanti a me la combinazione Pavard d'Armian che si scambiano sulla fascia piace molto aggiunge Sanchez alle spalle dei due attaccanti è stato coraggioso a togliere due giocatori importanti comunque come Barella come Turam eh non è non è banale secondo me in una finale andarle a togliere toglie Turam mette Arnauto che c'è Sanchez le scelte gli danno eh praticamente praticamente ragione forse potevo togliere Barella un po' prima probabilmente sì eh però io lo voto positivamente dai queste sono le nostre pagelle questi sono i nostri voti per questa supercoppa italiana Napoli zero inter uno l'inter porta a casa un altro trofeo e la quinta supercoppa italiana di mister Simone Inzaghi fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con le nostre valutazioni come sempre potete venire anche voi a dare i vostri voti dopo la partita basta che vi collegate in diretta con noi sul nostro canale Passione Inter iscrivetevi al canale e vi aspettiamo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club per entrare a far parte della nostra grande community di interisti da tutto il mondo